Controlli urgenti sulla qualità dell'acqua del mare a Pesaro è la richiesta che arriva dall'avvocato Pia Perrici, ex candidata a sindaco e coordinatrice dell'associazione Vieni Oltre. Nella richiesta urgente inviata agli enti competenti ma anche al prefetto e al sindaco di Pesaro, l'avvocato chiede un intervento immediato per verificare la salubrità delle acque marine in zone frequentate da cittadini e turisti. Io ho fatto una richiesta urgente al prefetto, al sindaco, all'ARPAM e anche al ministero per analizzare le acque del mare per il semplice motivo che sono stata contattata da diversi cittadini che dopo essersi recati nelle spiagge purtroppo sono stati colti da malore, mal di testa, mal di gola, dissenteria, vomito, otiti addirittura. Pare che ci siano anche diversi accessi ospedalieri. Io ho cercato di avere delle informazioni dagli ospedali ma ovviamente non li possono dare perché ci sono i dati sensibili e i dati sulla privacy. Ad aggravare la situazione è un'alga tossica che ha reso non balneabili alcune zone della costa adriatica. Per l'avvocato Perrici sono necessarie analisi in vari punti della costa, non solo a largo ma anche vicino alle spiagge. Di fatto c'è che il distretto di Pescara in tutta la zona di Chieti ha praticamente sospeso la balneazione perché c'è un'alga che si chiama Osteoptis ovata, chiedo scusa ma non so pronunciare bene il suo vero nome, che è praticamente altamente infettiva. E peraltro con le temperature molto alte prolifera in una maniera eccessiva. Quindi la situazione è grave perché bisogna dare certezza ai cittadini. Per cui io ho chiesto in questa diffida che vengano comunicati per una questione di trasparenza amministrativa, di collaborazione con i cittadini, che vengono effettuati immediatamente i prelievi e che vengono anche comunicati sia il giorno del prelievo che i risultati. Oggi l'ARPAM tramite una nota ha fatto sapere che i campioni prelevati il 5 agosto a Pesaro sono risultati tutti conformi ai limiti di legge. Dunque a Pesaro le acque sono balneabili. Il soggetto che a livello normativo è deputato a fare le verifiche non è il comune ma è l'ARPAM. L'ARPAM ha fatto queste misure ma è pubblico proprio il 5 agosto quando già il tema delle mucillaggini era un tema presente. Hanno fatto tutte le analisi del caso, non hanno riscontrato problemi di sorta, addirittura hanno classificato la qualità delle acque eccellenti.